Il mio giorno migliore sarà quando i ragazzi moderni e i ragazzi trocheranno un futuro migliore e sapranno veramente cosa fare per il resto del lavoro. Il mio giorno migliore sarà quando tutti i giovani avranno una prospettiva di vita e di lavoro. Quando veramente i nostri figli cresceranno non con la preoccupazione di dover dire oggi chi sa il loro domani quale sarà. Il mio giorno migliore sarà quando le coste dei negozi entrano bene, che non ci sono più tante tasse. Il mio giorno migliore sarà quando ci sarà lavoro per tutti quanti a Napoli. Il mio giorno migliore sarà quando passeranno le tasse. Cioè faranno cose concrete. Che posti di lavoro. E quando ci saranno tasse giuste. Il mio giorno migliore sarà quando ci sarà lavoro per tutti i giovani e anche per le persone anziane che vengono licenziate. Sarà quando nella mia attività di parafarmacia potrò vendere anche i farmaci considerati fascia C. Sarà quando finirà la disoccupazione e le tasse saranno due e due per lì. Il mio giorno migliore sarà quando vedrò che i giovani avranno un futuro migliore, un'occupazione. E magari gli anziani avranno un reddito pensionistico, certo. Il mio giorno migliore sarà quando saranno garantiti i diritti dello scudetto. Quando avremo lavoro. Quando avremo 9 aule studio. Il mio giorno migliore sarà quando potrò vivere nella mia città ridicosamente senza sentire il bisogno di andare via. E vi prego, aiutateci a vincere lo scudetto.